Ed eccoci qui, signori e signore, siamo tornati! Wallah, wallah! Allora, sta per iniziare il secondo match della giornata, Tiz against Tumblr. E cosa ci dite, signori? Ma che è una... Sembra le scommesse. Allora, Tiz è sulla carta uno dei più forti del torneo. Blur, so che di scacchi si intende, se si lamenta già... Cacchio, ho sbagliato. Di scacchi si intende, so che si è allenato, l'ho visto qualche giorno fa fare delle partite, ma soprattutto lui è un cavallone, i suoi cavalloni, quindi sarà fortissimo quei cavalli. Io mi attendo, mi attendo. Possiamo intanto dire alla regia che quando vuole può partire la partita. Sentiamo come Blur si sta preparando. Trollevo, grazie per gli undici, bentornati sta alla mo'. Ringraziando i sub, noi ci siamo Tiz. Vale però c'è tua musica, perché sennò è un silenzio, non posso, vedo solo dai dai dai, vi ringrazio. Una carica un po' diversa tra i due giocatori. Sì, devo dire, un livello di energia un po' diverso. Inizia la partita, attenzione. È iniziata. Ma Enk, tu rimani con noi durante la partita? Rimango, guarda, sto ancora a tre minuti, voglio vedermi giusto l'apertura e poi devo scappare. Spero che si accorgano, forse non si è accorto l'oro dell'inizio della partita, no? Sta un po', sono passati i 35 secondi. Se ne arrivano altre 10-15... È iniziata la partita, non so se... Ah, ok, 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 scusa, scusa, è vero, non l'avevo visto. Chiedo la regia di rimetterti i 30 secondi. No, no, ma tranquillo, tranquillo, stiamo così, senza problemi. Va bene, va bene. Vediamo, vediamo. Ok, molto bene, adesso abbiamo ripristinato l'equità dei tempi, così nessuno può chiamare Brogli per questo match. Attenzione a tre c5 in questa posizione. Va ad attaccare, va a minacciare il punto f2. Siamo lontani da delle minacce pericolose. Però il bianco adesso c'è il cavallo per e5, no? C'è un po' da un'impresa, bisogna capire adesso se si può prendere, come, che cosa c'ha il nero. Il potore sembra molto nervoso. Vedo la camera che fa... Sentiamo cosa dice. Spingne, presa, 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 ci sta. Se invece posso pure spingere direttamente in H3, pedone, devi dare il cavallo qua. Signori, fermatelo, mandate con aiuto, per favore. No, no, ma lasciano creare, scusami, se questo è il suo modo di ragionare, lo vedremo così. Forse c'è Michael J. Fox. Al galoppo, al galoppo. Ah, la celebre spinta H3. Bello. Arrocco. Tiz segue a mena dito le regole dell'apertura. Questo pedone continua a rimanere in presa, però giustamente adesso è un po' diverso, perché avendo arroccato, invece il bianco c'ha il re al centro, quindi potrebbe aprirsi le linee sul suo re, quindi deve evitare questa cosa. Esatto, esatto. La situazione è tesa, eh. La cam di Dura non prende pace, vediamo che ancora un po' traballa, un po' meno, però. Sì, ma non è colpa nostra. No, no, infatti, ma secondo me indica anche lo stato d'animo, quindi è giusto, anzi vogliamo vederle tutte traballare, no? È la sua cam che balla, ragazzi, che dobbiamo fissare. È quello, infatti, fissare, cioè io non faccio niente. Penso sia sul tavolo dove muove il mouse. Esatto, cioè qualcosa, oppure non so. Non so bene, non so bene. Non sappiamo, però arrangiatevi, insomma. E niente, quella fiera in D3 è un po' una spina nel fianco, per essere gentili, perché non permette al pedone di essere spinto e quindi di sviluppare e di portare fuori anche un altro pezzo. Per quello, ecco quello che dico sempre, attività, attività, è importante, i pezzi attivi, non facciamo i pezzi timidi dietro ai pedoni, davanti ai pedoni, non va bene. Arriva qui l'arrocco e, diciamo, arrocca da un lato dove ha già spinto H3, non gravissimo al momento, però se una regina si dovesse allineare da quelle parti, bisogna vedere, bisogna vedere cosa succede. Credo l'intenzione sia quella di evitare un eventuale cavallo B5 con questa spinta da parte di Tiz, sono sicuro. Sì, magari non per forza giustificata, insomma, si poteva giocare più al centro, sviluppare l'alfiere, tipo giocando D6, che è una mossa super tranquilla. Sì, oppure D6, certo. Ah, forse il motivo di H3 era per evitare il cavallo pinnato sulla donna, eh, con un eventuale alfiere G4, quindi ok. Sì, sì, è giusta quella, comunque si gioca in queste posizioni ovviamente H3, magari è un po' presto, però si fa di solito. Vediamo, vediamo se dicono qualcosa, stanno parlando? No, sembrano molto silenziose entrambi. Eh, sono entrati nella fase, sentiamo... Eh, capito, vince pure, guadagna pure in tempo spingendo. Il campione del Far West, mamma mia, sto cavallo quanto sta a pandarbaro. Mi sa che è romano, eh. Blur fa un commentare migliore del nostro, io l'ho sceso a lui. Fantastico, fantastico. Sì, invece, Tiziano è super concentrato, secondo me, ne abbiamo parlato in questi giorni di coaching, il nemico principale è se stesso, l'ha detto anche lui. Perché è molto teso, tende a non avere fiducia in se stesso, quindi questo poi influisce anche sul suo gioco, vedete? Non fa cose troppo aggressive, fa sta B5 così, l'alfiero lo lascia a casa, magari lo mette in B7, ma sta sempre lontano dall'azione, si mantiene sulle sue, ecco. Però dai, comunque è un modo di giocare più tranquillo, ma al momento sta tutto, sta guadagnando tempo. E tutto è molto equa la partita. Sì, 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 è bilanciatissima, solida, ci sta, tutto sotto controllo, direi. La partita più pulita che abbiamo visto da inizio torneo? Guarda, sì, anche il modo di giocare, il modo di giocare è molto classico, il cosiddetto gioco piano, se si può chiamare gioco piano. Proprio perché i giocatori giocano piano piano, sviluppano i pezzi, arroccano piano, piano. Però qui, allora, c'è un outpost che potrebbe essere piacevole per il cavallo, vediamo quanto è stabile, però resti difeso solo da quel pedone. Io vado sempre, voglio andare a sentire cosa dici, mi fa ridere. Ok, vuole muover il cavallo, magari vieni qua, qua è una bella colosità, è una bella colosità, ma potresti tecnicamente già evitare così, sali in A3 e poi vieni col cavallo qua, nel caso che switcha, certo, te apri la colonna, puzza un pochino. Te l'ho detto, il suo commentary è notevolissimo. Lo voglio a commentare il mondiale. Sì. Da quello che dice, ne sa, cioè, nel senso, esamina la situazione così, me puzza, però, diciamo, mi piace, mi piace. No, a me piace molto sentire il commento di chi ha iniziato da poco a giocare a scatti, perché non è un commento tecnico, è un commento così irreale. Cioè, proprio mi puzza, mi fa, faccio questo, 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 questo. Non dici A4, B, noi scattisti siamo un po'... Ti va là, così. A4, B4, cavallo, di cino, dee, du du du, mosse, mosse, mosse. Invece allora, io spiego questo, creo la linea, creo questo, bim bum bam, è un commento emozionante. Sentiamo la voce di Tizzo, non credo sentiremo troppo, direi. Qui Tizzo si è preso... Oh, sta parlando, si lancia di una filippica adesso. Ok. Forza. È smutato, eh, se parla lo sentiamo. Comunque Blur usa tantissimo il tempo L'ultima mossa un minuto Quindi Blur deve stare attento al tempo Perché la posizione diciamo Non lascia intravedere nessun vincitore Ma i cronometri invece si Mamma mia ma è bellissima questa frase che mi sono inventato Arriva un piccolo scacco E' uno scambio in realtà La donna si sviluppa Torri in comunicazione Blur qui infatti Velocizza i tempi Sviluppa la donna, difende anche E4 Quindi si appresta a completare lo sviluppo Potrebbe fare poi B4, copiare quello che ha fatto Tiz E poi sviluppare D3 in B2 per esempio Cosa ci dice il tempo no? Io vedo Blur con 5 minuti Ok ci sta dai ancora Però sta prendendo Cosa beve? Cosa ha bevuto? Tiz o Blur? Blur? Non lo so sentiamo Puzza che si mamma mia sto vedone lo vedo grigio A birra Eh no una spinta qua No gli libero proprio precisamente pure la colonna Per la donna Sarebbe meglio di no Magari il vedone Eh capito infatti lui vuole Vuole rompe i c***o in là Giustamente direi E beh io spingo le qua C***o mene C'è l'energia C'è il vibe A me piace C'è l'energia C'è l'energia C'è la tutto No no c'ha ragione Lui lo spingi di là E lui lo spinge di là E stanno pace Se lui mangia Lui mangia Io purtroppo vi debbo lasciare Vi debbo lasciare Anche se sento che c'è molto divertimento In caso se sentite la mia mancanza Voi smutate Blur E lui riempie Bye bye Ciao Oh mio Dio Oh mio Dio Credo che sia il momento Di riattivare immediatamente l'audio Di Blur Perché sta veramente urlando Ci faccio sempre dare a luce e vino Mi sta a perdere qualcosa di più goloso Spinta qua Scambio Presa no no Oddio potrei mettere Fieri qua E chiedere cambio No Adesso smuto anche Fizz E questo dovrebbe portarmi A non farmi troppo impensierire Dal suo alfierino Che comunque temo E beh deve spostare la donna adesso no? Quindi Sì Questa è un po' la linea Politica della sicurezza della posizione Adesso possiamo Facciamo un po' di pseudoscacchino Cioè nel senso Parliamo un attimo Come parlerebbero Dei professionisti Di questa Di questa posizione Perché Siccome non si stanno sbilanciando molto E molto equilibrata Potremmo lanciarci qualche commento Un po' più preciso no? Sulla posizione No 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 Assolutamente no No scherzo Comunque Secondo me Io prenderei sempre il nero qui Perché Può veramente Fare Buone cose Con Una torre Questo pedonino F5 Mi piace Perché può catturare Aprire la torre E Mi piace Mi piace il nero Sì sì Sono d'accordo Coppe degli alfieri No cioè avere i due alfieri In queste posizioni Così Diciamo ancora da decidere Magari Con possibili attacchi sul re Sono molto forti Quindi è un vantaggino di quelli che magari uno vuole tenere Poi c'è anche questa colonna F Perché se il pedone in F5 Mangia il pedone in E4 Si apre quella colonna E la torre può entrare in azione sul re dell'avversario Quindi ci possono essere degli attacchi anche divertenti Insomma Però devo dire Questa mi sembra veramente la partita più pulita Più equilibrata Come abbiamo detto E io stavo anche pensando all'elo dei giocatori Cioè Blur Gianmarco si presenta con un elo di 1279 Sai chi ha dato lezioni a Blur? Credo il padre Il padre è un giocatore di scacchi Quindi Il padre è un maestro Eh vedi Cioè è fantastico Ok perché Cioè veramente l'elo è bello impressionante Ok forse ha giocato poche partite su chess.com Vedremo come cambia l'elo dopo questa partita Perché sai all'inizio All'inizio quando giochi le prime partite su chess.com Il tuo elo cambia tanto Perché l'obiettivo è che ti vogliono far arrivare al tuo punteggio giusto subito Senza che crei troppi danni diciamo Visto che sei stata così precisa Ti dico che proprio per questo motivo Non si chiama elo questo Ma si chiama Glico Cioè è proprio un sistema diverso L'elo invece c'ha il K suo no? Sono semi preparato su questo argomento Sì 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 No ma a volte basta un'assemble preparazione Complimenti Romualdo Sei molto preparato Mozza Ok perfetto Perfetto Dai sentiamo Blur cosa dice Sentiamo Sì sì assolutamente Il pubblico a gran voce chiede anche questo Siamo Stiamo per entrare in una fase critica Ucciolo Io Te rilompo i co***ni Tiziano concentrato Sembra Eh sì Il cavallo attacca la regina Attenzione Vediamo la seconda regina Dobbiamo dire addio alla seconda regina No No la sposta sicura Ha fatto una faccia apposta Ah ok ok benissimo Sì 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 E per quello vedere le facce aiuta tanto Perché si capiscono le emozioni dei giocatori E anche quanto traballa insomma la cam Vedete questa è l'ansia Questa è l'ansia di Blur Così abbiamo un fattore che esplicita proprio questo concetto Attenzione Blur si sta lanciando Non so se smutarlo perché ha un po' paura Sì vai smuta senza paura Figura Oh ma è il treno livello 3 E si gode Ringrazia Sì smuta Mutalo mutalo Il treno Il treno dei vettigliari A me devi continuare però eh Cioè non è che posso farla tutta io la canzone E che non sono intonato Vabbè pure io però si va No bugia era una scusa In realtà sono super intonato Ho fatto anche il coro delle voci Allora 3 2 1 Eh che cosa devo ricominciare Perché poi mi ha fatto perdere il ritmo Va bene parliamo di scacchi che è meglio Sì 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 Vediamo cosa succede Vediamo cosa succede Allora Blur c'ha un pedone in più Questo è un dato di fatto Ora Il fatto è capire come sfruttarlo Cioè se cambi i pezzi e vince il finale Tecnicamente diciamo uno scacchista Ecco forse casca E4 in effetti adesso no È difficile qua Sì se il bianco cattura può rimangiare indietro Però vediamo adesso qua Adesso tutti i pezzi Tutti i pezzi si sono cambiati Tutti i pedoni al centro Quindi la torre, la regina Tutti i pezzi sono aperti L'alfiere Quindi Tiziano potrebbe avere possibilità interessanti Vedremo Sì 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 Ok lui mangia la torre C'è ancora questo pedone che è un poveraccio Vediamo Sì sì lo mangia sicuro Lo mangia sicuro? Non ci penso a volte a prenderlo Sicuro sicuro proprio Prende e lo mangia Altrimenti Altrimenti non lo so Fai i cinque push up Visto che ti piacciono Scommetto Cioè non su di te Scommetto per te Sì 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 Aspetta aspetta Scusa Devo smutare blur per forza Dai che te sei ripreso sto pedone Sei stato tanto bravo Perché mi fa muovere il pedone in diagonale così? Che è la nuova mossa di scacchi Allora Tecnicamente regà Prende il pedone con l'alfiere Che fanno? Pidiamo un tempo Ah con l'alfiere prende C'è qualche strana scoperta? No Attacca e basta Oddio Eh c'è sta quell'altro Sto pedone Smarcato Però se noi allineiamo Eh non lo può prendere Eh ci sta Ci sta Pensa Pensa in modo Raddoppia giustamente Sulla colonna Infatti la presa di donna Forse era un po' meglio In quella posizione Allora devo stare sincero Secondo me Tiziano Ha un po' di debolezza Sui finali Quindi non so se cambiare i pezzi Perché adesso per esempio Per salvare il materiale Deve fare che ne so Alfiere C6 magari no? Ah perde il pezzo così Diamo il pezzo Attenzione Attenzione signori Questo cavallino Può essere mangiato Perché Quando l'alfiere mangia La regina non può rimangiare Anche il pezzo Ah no signori Eh no Eh infatti Stavo capendo Eh infatti capito Cioè cascava questo pezzo Ho pensato che il nero Dovesse muovere Invece doveva muovere il bianco Sì sì Si ritorniamo Si può tornare indietro Cioè Ci dovrebbe essere Tipo Nella diretta Il bottone Torna 30 secondi indietro Sì sì Cerca un attimo Evita le figure Di 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 Nkak No mi manca Attenzione Dabba Scusami Dobbiamo Dobbiamo far tornare Nk Cioè io Chi Nkak Devo incaccare te No per favore Mi dissocio Cioè già stiamo Stiamo bene Altrimenti non dare brutte Ideale alla chat Che già so che partiranno Comunque sì Attenzione Adesso un pezzo Per come ha giocato Blur Finora secondo me Può essere anche Che riesca a tenerlo Il vantaggio Quindi Attenzione Vediamo Vediamo Quindi adesso Blur Ha un pezzo di vantaggio Sentiamo Come Come gode Sentata Bullet Dai Gioia Allegria Anzi Semplicemente diventa Un finale disgustoso Eh però Blur ci devi regalare emozioni Bello Ciao Un commento fuocoso E quindi sì Il vantaggio sembra accumularsi Per il bianco Adesso di solito Giusto perché Sai io Mi piace lanciare messaggi Messaggi alla chat In modo che Dopo questo pogchamp Loro saranno i veri pogchamp Diventano dei Super forti Loro Adesso hanno tutto il quaderno Loro stanno seguendo Così Hanno il computer davanti La tastiera E loro Sono lì A mandare messaggi A noi Però poi c'hanno anche Il quadernone Il quadernone La penna Per prendere appunti E per prendere note E imparare lezioni Importanti Per la loro vita futura Allora signori Altra lezione In finale Dovete crearvi Un pedone Da spingere Fino a Ok facciamo una più breve In finale Promovete I pedoni In finale Promuovete I pedoni Questo è quello Che dovete fare Quindi per esempio Romualdo Quale può essere Un modo per il bianco Per promuovere un pedone Beh si va a mangiare Un po' di pedoni Sull'ala di donna E poi Uno di quei pedoni Va a promozione Anche se adesso Sembra cascare Neanche il tempo di dirlo Casca a C2 Casca anche B2 Alla prossima Quindi adesso diventa Complicato Farsi un pedone Passato Cioè il fatto Secondo me Nella Pog Cambiare le donne Portarsi in finali Tecnici come questo Dove effettivamente Conta molto la tecnica Scacchistica Può essere un'arma A doppio taglio Quindi bisogna evitarlo Come la peste Secondo me Sì Adesso sono Un po' spaventata Perché Attenzione I pedoni Possono I pedoni No È un pedone È solo un punto Ma come ho detto In finale I pedoni Possono essere promossi E là sono guai Cioè Non si scherza più Adesso per esempio Si hanno un po' semplicemente Eh Push Push Esatto That's it Push il pedone C E tutti a casa Ok Ha fatto la mossa giusta Il cavallo adesso controlla La casa del pedone Però non è chiaro Diciamo A gioco corretto Magari se fai C2 E il bianco Sacrifica il cavallo Forse può mettere la torre Per difendere Però non è facile Qui ecco Vedi Ha sacrificato il cavallo E adesso siamo in un finale Che non è troppo facile Vedremo Vedremo Il tempo anche di Di blur È veramente poco Però c'è l'incremento Quindi ricordiamo 5 secondi Dopo ogni mossa E questo Speriamo basti Insomma Per avere un finale Molto acrobatico Veramente Quindi ricordiamo a tutti Che se Tiz vince Tiziano Vince questa partita Romualdo Indosserà No non se vinco questa Attenzione Qua subito a cambiare Le carte in tavola Ho detto Se vince il match Scusami Scusami Prima dell'armageddon Hai ragione Però se vince il match Eh sì Si trasformerà Come una butterfly Sì sì Mi piace questa manovra Di Tiziano No? Che cerca di portare il re E dice Vabbè prova a mangiarti i pedoni Sull'ala di re Il motivo qual è? Che se cambiano Il pedone passato Del bianco Per quelli del nero Sull'ala di re Comunque è più facile pattare Quindi diciamo Ci sta come idea Sì Anche se adesso Sta cercando di spingere No? Sì sì Vediamo Comunque Non è troppo facile Perché se Adesso Vediamo Vediamo Credo che Blur abbia un piano Molto semplice Non spostare la torre In avanti E continuare A spingere Col pedone Sì Non so Quale possa essere Il piano di Tiziano In realtà Un piano Un piano Lo vedo Ecco Vedi Adesso la torre Da scacco Ad me Adesso reggi 5 Magari così Si attacca la torre Il pedone Sì Lui è costretto A tornare indietro E magari riesce A pattare da nero Che comunque Insomma Mica male No Comunque Sti giocatori Sono On fire Cioè Sono veramente È vero Abbiamo una patta Qui Incredibile Cioè non avrei mai detto Una patta per triplice Incredibile Ma se siamo i giocatori Spostiamoci su Discord Orribile Qua che facevi Spingere Lui doveva venire Ma tecnicamente Allora Pattina È la prima patta Del torneo Signori Eh sì Ma l'ho buttata Nel finale Palesemente Pattina Devo dire Quel finale Era un po' difficile Avevi quel pezzo in più Però quando i pedoni Poi iniziano a essere spinti Non è facile Per quello poi tu giustamente Hai dovuto dare il tuo cavallo Eh Ma devo dire Questa è la partita più corretta Che abbiamo visto finora Quindi complimenti ad entrambi Grazie Daia 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 Complimenti Ma se vedeva da prima Che in realtà saremmo andate a Pattare Alla fine Cioè anzi È apprezzabile Che abbia Ripetute le mosse Perché comunque Io le ho ripetute Perché Per come è andata Tutta la partita Dici È giusto Io per tutti Dopo un certo livello Della partita in poi Ho detto Cioè O la gioco Sperando che gli scada il tempo Ma mi sembra Poco sportivo Oppure Andiamo avanti E vediamo cosa succede Quando ho recuperato il cavallo Eri ancora in più uno Il problema è che Tutte e due Avevamo i pedoni messi Malissimo Secondo me sarebbe finita Fatta A meno che qualcuno Non avesse fatto Un errore clamoroso Seconda partita Ok Vediamo Ora Blur e bianco Ok Facciamo il pre-move Noi così No Spero che Ragazzi Buon presentimento Ragazzi Ah È il barbiere time Sibio Accendi Accendi subito Su Blur Mi sta a salire Regà Mi sta a salire È il barbiere Mi sta salendo il Ragazzi Il rischio c'è Dobbiamo dirlo Il rischio c'è Vedi la Vedi la Mi sento in colpissima Concentrata Cavallo davanti Però è anche È anche onesto Sta dicendo Ora se ne accorge Se ne accorge Ma ho paura Che non se ne accorgerà Mettici il cavallo Mettici la donna Mettici quello che ti pare Mettici qualcosa No Adesso Alla possibilità È il matto Dell'holly fans Signori Per il meme Per il meme Lusi lane è un po' Colpita È per il meme È per il meme Il barbiere è arrivato Gli abbiamo tagliato i capelli A Lusi lane Here we go